Sostenibilità, qualità e regionalità. I prodotti alimentari devono puntare sempre più al rispetto dei severi standard di qualità e di tutela dell'ambiente nei luoghi di origine. Il commissario dell'Unione Europea Ftenis Andrew Kaitis ha ribadito il valore del progetto pilota europeo in materia di politiche alimentari presentato a Bolzano insieme al presidente della provincia Arno Compatcher. Dal 2014 responsabile per la salute e la sicurezza alimentare nella Commissione Juncker, Andrew Kaitis ha manifestato pieno appoggio alla proposta del presidente della provincia Compatcher per una politica alimentare sostenibile. Il commissario ci ha confermato che siamo sulla strada giusta, che abbiamo tutti gli elementi per anche iniziare un progetto pilota assieme all'Unione Europea proprio in questa direzione di una regione verde per quanto riguarda anche la produzione agroalimentare. Noi Tech Park di Bolzano, quale luogo se non questo per parlare di innovazione nelle visioni di politiche alimentari sostenibili? Un convegno a respiro internazionale ha permesso al commissario europeo di ribadire quanto sia mai attuale il tema della regionalità dei prodotti alimentari. Un progetto pilota rappresenta la soluzione giusta a proposito del parere di iniziativa presentato all'inizio 2017 da Compatcher al Comitato delle Regioni a Bruxelles. L'argomento è stato discusso nel corso di una cena. La cena di ieri sera è stata l'occasione per spiegare un attimino il nostro sistema economico ma soprattutto anche l'agricoltura in montagna basata ovviamente sulle aziende molto piccole però anche la cooperazione che esiste sia per quanto riguarda la produzione ma soprattutto poi l'elaborazione e la vendita dei prodotti agroalimentari e la nostra idea di poter privilegiare in futuro i prodotti locali anche quando si fanno i bandi pubblici per le mense o per esempio per gli ospedali. Un confronto intitolato verso una politica alimentare sostenibile ha visto la partecipazione di Roland Psenner, presidente dell'Eurac, Ulrich Tapainer, presidente di Unibizeta, Andrea Segre, presidente della Fondazione Marche e Marcus Schermer dell'Istituto di Sociologia dell'Università di Innsbruck. Grazie a tutti.